segno 7 rubrica settimanale socio religiosa in diretta buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di segno 7 la ventunesima di questa edizione da ottobre scorso una nuova agenzia culturale opera a san giovanni valdarno si tratta dell'accademia dell'annunziata come vedremo sorella di questa stessa rubrica in quanto anch'essa promossa dal servizio editoriale fiesolano e la vicinanza tra segno 7 e questa accademia la vedrete chiara tra pochissimo quando vi presenterò gli ospiti che sono venuti a parlarcene alcuni dei quali certo non nuovi a questo studio sono infatti con me parto a presentarli dalla mia destra abbiamo paola conti membro del comitato di gestione dell'accademia una corsista che ha frequentato appunto le lezioni di quest'anno che è maria farisei abbiamo un altro membro del comitato di gestione che è a natani quindi paolo meucci anche lui ha seguito i corsi di quest'anno e infine franco sabatini membro del comitato di gestione dell'accademia bene benvenuti a tutti è un piacere avervi qui con noi stasera in questa puntata parleremo appunto dell'accademia dell'annunziata e ci aiuterà anche un servizio che è stato preparato da analisa zampini anche lei amica di segno 7 e ora impegnata nell'accademia come segretaria mi pare no bene e io comincerei subito a chiedendo a franco sabatini quando e perché nasce l'accademia dell'annunziata cioè l'accademia dell'annunziata san giovanni valdarno nasce l'anno scorso nel 2017 quindi l'anno scorso ecco siamo nel 2019 e nasce per un'esigenza e si è avvertita proprio anche nell'ambito della nostra redazione della rubria segno 7 come diceva giovanni cioè il bisogno che esiste da tutte le parti di una formazione continua anche per le persone che non sono più in attività lo so che molti sono abbastanza resti nel definire queste iniziative come università della terza età perché sembra mortificante però in realtà più o meno lo sono tutte si è allungata la vita si è allungata la qualità cioè migliorata la qualità della vita nelle persone che insomma di una certa età e che non vogliono lasciarsi come dire prive di come un cibo culturale diciamo così quindi di attivarsi con la mente con insomma cercare di affinare ancora di più loro interessi questo soprattutto in quelle persone che magari da giovani hanno avuto minori possibilità di andare in questo senso ora san giovanni è una cittadina molto attiva sul piano culturale quindi ci sono tantissime iniziative un'iniziativa di questo genere probabilmente mancava e quindi è venuto fuori insomma bene o male per iniziativa di qualcuno alla fine è nata l'accademia dell'annunziata ora io eccomi naturalmente ognuno parla sulla sulla base della della propria valutazione eccetera si chiama accademia dell'annunziata è una figliazione tramite il servizio editoriale fesolano che già esisteva ed è l'editore di segno 7 fra l'altro ne diceva giustamente giovanni ed è una diretta figliazione della fondazione conservatorio delle suori agostignani che da conservatorio è diventato nel 2006 una fondazione privata con controllo dello dello stato questa fondazione come del resto l'antica struttura del conservatorio ha come obiettivo fondamentale la la formazione la la formazione delle fanciulle all'inizio ma insomma formazione in generale formazione culturale attraverso le scuole per esempio e in generale attività culturali quindi c'era già un terreno precedente pronto la struttura dell'accademia dell'annunziata però insomma qualcuno che ci vede dal di fuori magari non è molto favorevole no a questo questo ambiente questo tipo di mondo eccetera state tranquilli non è assolutamente confessionale cioè è una attività culturale libera in cui non è necessario insomma appartenere a un mondo particolare c'era non vi fate fuorviare dal fatto che dal conservatorio di santissima annunziata insomma è legato al conservatorio al convento delle suori agostignani cioè questo concentra assolutamente nulla tranne il fatto che comunque sia ci offrono locali e noi si fa insomma si opera in conformità quelle sono le esigenze culturali generali della delle persone per questo è nata ecco franco eh già eh ci ha introdotto al fatto che eh sono due le anime eh dell'accademia una è la fondazione eh del conservatorio della della santissima annunziata di cui ci ha parlato franco l'altra è il servizio editoriale eh fiesolano di cui segno 7 fa parte però appunto chiederei a eh a Anna Tani di parlarci un po' più del contributo del servizio editoriale fiesolano all'accademia bene se ehm guardiamo il catalogo delle pubblicazioni del del editoria eh fiesolana si trovano titoli come la chiesa la pieve di grofina la pieve di cascia eh le vetrate di san lorenzo insomma molti di queste pubblicazioni hanno a che vedere naturalmente con la storia religiosa e con la morale e l'etica ma molte su con la storia locale e in particolare con quelli che sono i i monumenti e i luoghi di maggiore interesse è eh appunto un indirizzo anche di tipo antropologico si vuol conoscere far conoscere quelli che sono ehm in maniera la storia del del nostro paesaggio e in particolare appunto del Valdarno se poi guardiamo alle scuole adosti delle suore agostiniane ci sono dall'asilo nido fino a alla scuola secondaria eh io dall'esterno ho potuto vedere che i ragazzi di questa scuola sono spesso andati per esempio a Barbiana oppure eh questo eh in questo periodo hanno partecipato ai lavori del maggio musicale insomma tutte e due gli enti hanno come ehm filo conduttore come obiettivo trasversale insomma come fine quello di eh far appropriare ai ragazzi ma anche ai lettori della casa editrice e farsi a farsi a far conoscere il territorio in maniera da appropriarsene e da avere una maggiore identità quindi questo è il filo conduttore dei due enti che poi è passato abbiamo ereditato noi nell'Accademia. Tornerei un attimo da da Franco ecco quindi come è nata l'idea ce l'avete raccontato però a quali eh esempi vi siete ispirati per dar vita a questa Accademia? dunque di esempi e di modelli ce ne sono a Iosa perché eh è tanto tempo sono tantissimi anni che da 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 molte parti insomma nascono queste che io mi ostino a chiamare università della terza età perché non mi vergogna e non mi disturba e anzi benvenga a questo tipo di iniziative. Diciamo che eh posso dire per esempio che per esperienza personale io che ho portato un contributo notevolmente ridotto non è mio in merito di aver fondato l'Accademia L'Annunziata però il mio modello di riferimento è l'iniziativa di Montevarchi della cosiddetta Libera Università del Valdarno che ha eh come dire un'organizzazione notevolmente eh bella e non so insomma insomma io stavo per dire perfetta ma comunque sia ed è è riuscita effettivamente a ottenere un grande successo ma non un successo diciamo per 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 gonfiarsi di 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 Boria o cose di questo genere semplicemente perché ha coinvolto gran parte della popolazione della popolazione della popolazione di una certa età ma non solo e eh si è mantenuta diciamo su un tono abbastanza coerente con le con con gli obiettivi che si era proposta e ora riesce per esempio a fare insomma a mandare avanti delle iniziative e a questo punto per il numero e per la 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 frequenza la frequenza delle persone credo che si sia quest'anno fra trecento e quattrocento persone io lo posso dire perché faccio parte del consiglio direttivo e questo lo devo dire eh non è una regla ma però comunque sia insomma non siamo in competizione anzi eh ci si augura che che si entri pian piano in collaborazione con l'iniziativa di Montevarchi che è andata avanti molto bene all'inizio devo dire che più o meno i risultati primo anno furono nella misura in cui ci troviamo noi insomma cioè all'inizio i risultati sono soddisfacenti ma non eccellenti eccezionali poi piano piano insomma prendono piede iniziative eccetera anche se mi pare che l'Accademia l'ha annunziata a San Giovanni per molti altri motivi per esempio la presenza di molte altre iniziative iniziative non uguali ma comunque sia culturali in una cittadina come San Giovanni che tutt'ora è abbastanza viva e vitale eh ce ne sono tante quindi ecco diciamo che ci si può per ora limitare a una a delle iniziative non onnicomprensive mi pare queste sono più impressioni mie che altro però i modelli sono le università della terza età che poi bene o male in qualche modo laddove riescono ad avere successo e quindi a coprire un bisogno perché questo è il problema coprire un bisogno non per altro motivo nessuno ci guadagna niente e cercare di soddisfare un bisogno che emerge sempre di più dalla popolazione grazie a Dio sono le università della terza età i modelli ci sono a per tutto grazie ecco Anna Tani come è strutturata l'Accademia? allora in maniera abbastanza semplice e snella non siamo in molti e questo permette prima di tutto una efficacia di immediatezza e poi anche di collaborazione ci conoscevamo tutti però eh frequentando il consiglio viene fuori proprio anche vengono delle amicizie allora c'è un comitato di gestione che è composto da undici membri che eh derivano appunto dai due enti fondatori eh la coordinamento del comitato di gestione è di Paola Conti e le riunioni del comitato sono bimensili ogni quindici giorni ci ritroviamo di solito il martedì naturalmente eh queste sono le strutture fisse ci sono poi quelle eh episodiche cioè quelle per esempio dei docenti che seguono per il periodo nel quale fanno il corso e naturalmente eh irrinunciabili perché senza di loro non ci sarebbe l'Accademia i corsisti perché eh anche loro non sono sempre gli stessi non tutti frequentano tutti i corsi ma sono comunque una parte importantissima del nostro di questo lavoro ora all'inizio quando ci siamo eh ritrovati eh nella fase di preparazione abbiamo messo insieme qualche tema e gli obiettivi di lavoro poi ognuno di noi ha trovato dei possibili relatori abbiamo consegnato loro dei macro argomenti poi con i relatori si sono divisi in capitoli e è venuto fuori un canovaccio delle attività una volta verificato la possibilità di farlo il canovaccio è diventato il programma definitivo e ora quando ci si ritrova ci si ritrova per operazione di monitoraggio fra l'altro sono emersi eh dei questionari pensiamo di eh riuscire a a a far esprimere i corsisti nelle loro preferenze e in quello che appunto più o meno possono aver valutato invece in maniera negativa e questo monitoraggio ci serve a impostare la ricerca perché in realtà il tutto è proprio una ricerca di di anche di metodi siamo all'inizio per cui tutto quello che viene verificato in questa prima fase potrà essere prezioso per periodo successivo Visto che ti hanno chiamata in causa Paola Conti ecco chi fa parte dell'Accademia e a chi si rivolge l'Accademia? Allora alcune cose buonasera a tutti e sempre ai telespettatori di di Segno 7 quindi eh ci ritroviamo ogni tanto e stasera sono contenta di essere qui per questa occasione eh Anna ha già e Franco hanno già spiegato diverse cose allora eh da chi eh è composta e a chi si rivolge composta è già stato detto però vorrei sottolineare anche una cosa in particolare che ehm si tratta di persone partendo da un principio eh mio personale che eh il sapere è un diritto e un dovere della persona quindi la conoscenza eh le persone che in realtà provengono dalla fondazione o da altre eh dal servizio editoriale Fiesolano o altro ancora eh siamo persone eh che ci sentiamo la responsabilità anche di far circolare il sapere quindi non è una questione soltanto di offrire a soltanto non so persone anziane o che sono in in diciamo fuori dall'attività professionale o che c'è persone come eh diceva Franco eh la libera università del Valdarno considerata talvolta quella della terza età è vero che ne fanno parte persone eh che possano avere più tempo disponibile però ci sono anche degli orari che possono essere consentiti a qualunque persona che abbia il desiderio di conoscere di approfondire eh quelli che sono i temi che vengono proposti di cui sono venuti a conoscenza ehm io penso che ci sia proprio anche da parte di chi fa parte del comitato di gestione ma anche di chi viene come iscritti all'accademia siano persone che sentono la responsabilità non solo a livello personale per se stessi ma io credo che una persona si diventa più persona più alto più elevato è il livello eh culturale le conoscenze che ha e la possibilità di poter eh diciamo controbattere dibattere eh nell'ambito della comunità di cui fa parte con maggiore eh con maggiore eh cognizione di causa quindi ogni approfondimento può essere veramente legato alla capacità eh della eh della persona alla sua disponibilità alla sua al suo senso anche di responsabilità proprio nei confronti della comunità di cui fa parte. Naturalmente c'è anche una soddisfazione personale perché più si conoscono determinate cose più eh diciamo abbiamo una eh aumenta anche la nostra autostima personale quindi la cultura è qualcosa che fa crescere e non che diminuisce. Quindi chi fa parte? Persone come ho detto che effettivamente si sentono così ehm dice portate disponibili anche facendo qualche volta qualche sacrificio perché eh non è che tutto quello eh che si desidera fare non richieda sacrificio più che sacrificio insomma organizzazione fatica eh stare a casa forse qualche volta a vedere la televisione può essere più semplice che eh venire all'accademia. E poi vorrei sottolineare un altro aspetto quindi che non si tratta di un'elite ma di persone che vogliono condividere insieme agli altri la crescita in un confronto. questo credo che riporti ad una socialità che talvolta è venuta a mancare proprio per quel mezzo televisivo eh che ho citato in questo momento. Quindi l'accademia è un nome eh diciamo anche altisonante per certi aspetti eh però non si rivolge ad un'elite ma a delle persone che sono capaci di potersi guardare intorno e di voler crescere e di maturare. Quindi eh non è questo un appello o un comizio per l'accademia. È soltanto un riconoscere effettivamente le possibilità che ci sono. Poi ci sono altri aspetti che eh con le domande forse di di Giovanni verranno verano fuori. Eh sicuramente ehm questi 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 aspetti diciamo della eh anche metodologici dell'accademia stessa perché come diceva Anna eh si tratta di corsi eh messi diciamo linearmente senza sovrapposizioni quindi con l'opportunità anche a una persona di poterli seguire ehm diciamo anche con una certa facilità se sceglie questi anche con periodi di tempo se non li sceglie tutti perché ci sono dei momenti in cui eh il il corso per la persona che ne ha scelto uno eh invece che tutti eh non sono tutte le settimane. Però ecco è una ehm opportunità importante considerato anche che che prosegue. Si parla di non apprendimento e basta ma di eh approfondimento e anche che diventa formazione poi per certi aspetti perché non sono delle parole che sono eh divise e quindi eh l'accademia che proviene dalla fondazione dell'annunziata e fa parte dell'antico dell'antica tradizione del conservatorio per quelle ragazze che sono state ricordate una volta che avevano il diritto di poter avere una istruzione, una formazione e noi oggi proseguiamo anche su questa linea. Quindi non è soltanto per come ripeto per persone eh che hanno una disponibilità maggiore perché fuori di un'attività professionale ma per tutte le persone volenterose di conoscere. Ecco e ora ci fermiamo eh un attimo qui in studio ma andiamo il servizio che ha preparato eh Anna Lisa che ci parlerà appunto di questo primo anno dell'Accademia dell'Annunziata. E Accademia dell'Annunziata è il frutto di un progetto culturale nato a San Giovanni Valdarno dalla volontà di Paolo Bonci presidente del servizio editoriale Fiesolano e da un gruppo di persone che si sono interrogate su cosa poteva essere utile alla città, ai suoi residenti per stimolare la voglia di crescita educativa, formativa e sociale. A sostenere l'iniziativa anche la fondazione delle suore agostignane della Santissima Annunziata. Dopo una fase di studio si è costituito il comitato di gestione che ad ottobre 2018 ha presentato i primi otto corsi. Le iscrizioni hanno evidenziato il favore di un centinaio di persone che hanno a cuore il rilancio della cultura nel territorio, che amano la promozione dei vari saperi, apprezzando l'approfondimento di varie tematiche attuali, storiche, scientifiche, tradizionali, locali o generali e che desiderano continuare ad imparare cose nuove. L'Accademia sede in un edificio storico di Piazza Cavour dove le suore agostignane hanno da sempre profuso impegno per il bene della cittadinanza, prima con l'assistenza ai malati, ai pellegrini e poi dal 1785 dopo il decreto del Granduca Pietro Leopoldo con l'educazione e l'istruzione fino a far diventare la scuola un istituto magistrale aperto a tutti che ha dato la possibilità di formare molti sangiovanesi fino al 1964 quando l'istituto passò allo Stato e nel conservatorio restarono le classi per la formazione dell'infanzia, attività che dura tutt'oggi. In questi luoghi storici dunque ha mosso i primi passi l'Accademia dell'Annunziata che con i primi corsi ha offerto un servizio di educazione permanente a chi vuole investire il proprio tempo libero insieme ad altre persone per nutrirsi di nuove conoscenze per ripassare qualcosa di già appreso. Il programma è articolato in otto corsi tenuti da vari docenti esperti nel tema trattato, spesso espressione delle professionalità del territorio. Interessanti sono stati gli appuntamenti dedicati alla musica con il professor Claudio Santori che ha parlato del genio di Verdi e il suo rapporto con la religione, con il maestro Michele Manganelli che ha diretto il concerto in Basilica Maria Santissima delle Grazie e delle Voci Bianche della Cattedrale di Firenze e tenuto la conferenza sulla musica sacra nei secoli. Il maestro Andrea Trovato ha parlato di Arturo Benedetti Michelangeli, genio del pianoforte, mentre il musicista Maurizio Bozzi ha concluso il corso con il tema dal jazz a rock. Otto incontri poi per il secondo corso dedicato alla salute e allungamento della vita, prevenzione e stili di vita, cura del dottor Alberto Cucquini, prevenzione in cardiologia con la dottoressa Lucia Palmerini e come controllare cuore e pressione arteriosa con il dottor Giovanni Mantini. L'apparato digerente è stato illustrato dal dottor Francesco Tarchi come affrontare l'invecchiamento è stato il tema del dottor Alberto Peri e quale attività fisica svolgere si è imparato visitando un centro dei servizi AFA. Si è parlato anche di ambiente e salute con il dottor Roberto Romizzi e dieta mediterranea con la dottoressa Sandra Bonannini. Grande attenzione anche al terzo corso dedicato ai cambiamenti climatici con il dottor Fabrizio D'Aprile che ha toccato in quattro incontri le problematiche legate ad inquinamento e riscaldamento del pianeta con effetti globali e ricadute locali. Il quarto corso è stato dedicato alla letteratura e il professore Franco Sabatini ha portato all'attenzione dei partecipanti letture di brani classici di Manzoni e Leopardi affascinando con aneddoti e notizie frutto di approfonditi studi e appassionanti letture. È stata la volta poi del quinto corso dedicato alla psicologia presentato da due psicologhe la dottoressa Cristina Minotti e la dottoressa Diomira Neri che hanno presentato l'evoluzione di una scienza sempre più legata allo sviluppo della società e al benessere dell'individuo nella scuola e nella famiglia. Il sesto corso è dedicato alla musica nel cinema e colonne sonore con cinque incontri affascinanti grazie all'appassionante le presentazioni della professoressa Marina Longo e una proiezione di varie ispezioni di film che hanno fatto la storia a cura del dottor Carlo Menicatti. Il settimo corso sarà dedicato alle efficienze energetiche e fonti rinnovabili con gli ingegneri Simone Tartaro e Vincenzo Cardarella, mentre l'ottavo ed ultimo corso avrà per tema storie e significati delle termine democrazia, a tenerlo il professor Marco Polvani. Nell'occasione è stata prevista ed organizzata una gita a Roma anche per la visita alla Camera dei Deputati, uno dei rami del Parlamento dove il sistema democratico viene concretamente esercitato. L'Accademia dell'Annunziata dunque ha preso in largo e vuole proseguire il suo viaggio piena di entusiasmo con tutte quelle persone che vorranno, contribuendo con idee e partecipazione, a mantenere l'interesse per la cultura e stimolare la curiosità verso argomenti nuovi, alimentando la voglia di una continua conoscenza delle cose del mondo per essere cittadini migliori e capaci di salvaguardare l'ambiente, la salute e la bellezza nelle varie forme dell'arte e della vita. Eccoci di nuovo in studio, chiederei a Paola Conti se vuole puntualizzare qualcosa sui corsi di quest'anno, se ce n'è uno in particolare che l'è stato a cuore e anche per finire questa prima parte di Segno 7, indicare come si entra in contatto con l'Accademia dell'Annunziata. Allora, sui corsi ci sarebbe molto da dire, ma lo possono dire di più i corsisti che sono anche qui presenti e che hanno partecipato, credo anche alcuni, uno di loro, insomma tutte e due, a molti corsi. Quindi sono tutti stati molto interessanti, variando tematiche veramente da un settore all'altro molto importanti. Posso sottolineare che cosa? Ricordare due ne sono stati fatti sulla musica. Uno diciamo in termini più ampi, più ampi nel senso di varietà di genere musicale perché si passava dalla lirica al jazz e al rock, quindi con aspetti anche molto particolari perché per esempio il rapporto con dei brani significativi di Giuseppe Verdi nel suo rapporto tra la musica e soprattutto la religione. Quindi anche un tema che non è così solito, diciamo, da affrontare. Altri, anche l'altro sul cinema, quindi sono stati sei, sette incontri molto significativi, la musica nel cinema, a chi non piace il cinema. Quindi poter conoscere meglio la storia del cinema e soprattutto la musica, quando è entrata e come è entrata, credo sia stato un effetto veramente piacevole, oltre che interessante da un punto di vista culturale. Altri, parlo per esempio degli ultimi due, che saranno uno sull'energia, le fonti rinnovabili, che dovrebbe cominciare il 6 di aprile, e sicuramente che anche questo va appunto dal significato di energia, ma soprattutto dalle fonti rinnovabili e anche gli aspetti fiscali, quindi da un punto di vista pratico per quanto riguarda questo campo e questo settore. Mentre l'ultimo è quello sui sistemi di democrazia e i modelli di democrazia. Un corso, questo abbastanza breve, ma molto intenso per il contenuto, a cui seguirà come conclusione una gita a Roma che è aperta a tutti, perché naturalmente non si deve restringere, si parla che cultura è apertura, e quindi non si può lasciare che una gita così interessante possa essere riservata esclusivamente agli iscritti, anche se il numero degli iscritti sarebbe sufficiente per poter fare la gita a Roma. Quindi è aperta veramente a tutti e quindi comprende anche, oltre a un patrimonio artistico e soprattutto ambientale, come possono essere i giardini vaticani oppure reperti archeologici oppure la necropoli vaticana, anche la seduta al Parlamento della Camera, alla seduta della Camera, il giorno 7 e poi anche Villa Borghese. Quindi un viaggio interessante per chi ha voglia sempre di entrare nel bello e di vivere il bello. Come si entra in contatto? In contatto il passaparola naturalmente è più che altro quello di contattare anche i corcisti che possono fare da moltiplicatori se sono stati come sembra e appare dalle loro questionario, oltre che personalmente perché si parlava di socialità, tutti ben soddisfatti. E se no, presso la sede delle suore agostignane, il sabato mattina dalle 10 alle 12 c'è una segreteria per cui possono iscriversi ancora agli ultimi corsi oppure prendere altre informazioni. Grazie a tutti, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati, iniziamo questa seconda parte della puntata di Segno 7 dedicata all'Accademia dell'Annunziata. Mi rivolgo ora a Franco Sabatini e a Anna Tani, vorrei chiedere loro che cosa può portare ad una realtà locale come San Giovanni o come più in generale anche il Val d'Arno, la presenza di un'istituzione come l'Accademia dell'Annunziata. Chi vuole iniziare, Anna o Franco? Allora, decisamente negli ultimi tempi la vita di San Giovanni è cambiata. L'identità di San Giovanni, per esempio alle nuove generazioni, è un po' sfuggita. Non sarebbe male che attraverso degli ambiti storici, soprattutto di storia locale, ma anche di illustrazione della futura vocazione turistica di San Giovanni, perché sembra che questa ce l'abbia, che un'informazione permettesse agli utenti, ai corsisti, di appropriarsi in maniera più consapevole della propria realtà. Insomma, il discorso fondamentale dovrebbe essere quello di costituire un'identità, anche rispetto agli avvenimenti più recenti. E questo non è solo interessante per coloro che dovranno seguire i corsi, è un'occasione di ricerca e di studio per quelli come noi che dovrebbero, o si impegneranno a costruire questi corsi. Perché rilevare i bisogni che ci sono, i vuoti, le mancanze che ci sono nella cultura di San Giovanni può essere un'ottima occasione per recuperarli, coprirli e in qualche modo ottenere dei risultati. Anche, per esempio, come diceva prima Franco, collaborando e mettendo in evidenza quali sono le altre associazioni culturali. Insomma, operare un collegamento, fare qualcosa insieme, forse ci porterà dei risultati migliori, sicuramente, che se agissimo da soli. Un individuo da solo non può cambiare le cose. Se le associazioni che ci sono potranno avere una strategia comune e potranno riuscire a lavorare insieme, a costruire un'identità più sicura, più evidente, questo forse porterà a un miglioramento. C'è molto da fare ancora, molto da studiare. E questo giustifica un po' la nostra presenza. Mi sembra che Anna abbia messo in evidenza, diciamo, bene quello che ha chiesto Giovanni. Cioè, un rafforzamento dell'identità della comunità che magari è un pochino, non che si è persa o che si sta perdendo, ma però si sta allargando, le nuove generazioni, il mondo cambia. Non un restringimento dell'orizzonte, ma semplicemente un approfondimento di dove siamo. Ora io, ecco, in questo senso, mi pare che nel paese nostro, io lo chiamo nostro anche se non sono un cittadino puro, perché sono un monteverchino, nell'Atene periclea non avrei avuto la cittadinanza, se n'è stato un meteo, insomma, ancora. Però, ecco, insomma, ci ho vissuto 50 anni e qua qualcosa di più. E mi sento di dire, per un'esperienza che ho vissuto anche con vicinanza, e sono abbastanza legato all'ambiente, che San Giovanni ha questa caratteristica, quella di essere un paese molto evoluto in questo senso, e anche molto vitale. Quindi non c'è chiusura, ma c'è proprio apertura. E quindi questa costellazione di iniziative che comunque sorgono qua e là in maniera spontanea e sorgono dal basso, e questo è importante, in fondo tutte perseguono lo stesso obiettivo e hanno buona, come dire, buona fortuna in questo senso, proprio perché c'è questa apertura generale e questo senso della comunità, per cui un processo identitario, in generale, a San Giovanni si accetta volentieri. L'importante è che qualcuno prenda l'iniziativa e, insomma, riunisca questi fili, li metta tutti insieme. Auguri per il futuro. Ecco, e proprio sulla scorta di quello che ci dicevano Anna e Franco, a questo punto chiamerei in causa i due corsisti, per chiedere loro perché hanno deciso di seguire i corsi dell'Accademia, ecco, perché seguire i corsi dell'Accademia dell'Annunziata. Signora? Dunque, prima di tutto è l'amore per la cultura e anche il desiderio di conoscere e di sapere anche tematiche nuove oppure anche tematiche che uno già conosce, ma non così in modo approfondito e perché possono essere state, per vari motivi, a vario titolo, un po' trascurate oppure anche mai, quindi neglette, oppure anche mai affrontate. Quindi questo può essere un motivo importante. Poi soprattutto, e già anche la Paola Conti l'ha ricordato, oltre l'amore della cultura e il desiderio di approfondire, di conoscere argomenti nuovi, c'è anche il fatto che uno debba condividere, quindi è il concetto di condivisione con gli altri quello che personalmente già sa o pensa di sapere, di conoscere e è quello che anche gli altri, a loro volta, possono trasmettere nell'insieme, nel gruppo, nelle varie incontri, nelle riunioni. Quindi queste sono fondamentali. C'è anche un altro aspetto, mi sembra comunque che l'abbia già toccato. Le persone che, come anche io del resto, e altri corsisti che hanno seguito questi corsi durante l'anno, desiderano, oltre la conoscenza e l'approfondimento, desiderano occupare, impegnare, una parte del proprio tempo libero. Perché è vero che molti di noi hanno già compiuto, finito, svolto la propria professione per vari anni e quindi è chiaro che sentono il bisogno e l'esigenza comunque di rivedere o riprendere certe tematiche, certi interessi oppure di sentirne, ascoltarne di nuovi. E questi sono i motivi, secondo me, fondamentali per cui l'iscrizione ai corsi è possibile. E poi c'è infine, ecco, un altro aspetto, il valorizzare il valorizzare le professionalità delle persone, siano essi docenti, educatori, esperti e anche valorizzare in fondo le varie attività locali. io credo. Grazie. Paolo. Buonasera. Io volevo invece valorizzare la socializzazione che c'è stata in questi incontri per i vari temi perché tutti più o meno siamo informati su quello che accade alla nostra terra per quanto riguarda per esempio il corso su cosa accadrà, eh? Cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, esattamente. Quello che accadrà alla nostra terra se non stiamo un pochino più attenti, no? E tutti si sa, si legge. Invece una presentazione fatta da dalla persona addetta ai lavori fu veramente esaustiva e tanti poi fecero le domande e personalmente io conosco tante persone di San Giovanni e tante quasi tutte quelle che venivano lì e ci sono le varie estrazioni culturali da quelle più acculturate a quelle che sono informate per i che leggono il giornale però la partecipazione poi al dialogo alle richieste alle domande era uguale per tutti e tutti quasi assetati di sapere di volere conoscere più approfonditamente e fare la domanda all'esperto per avere non so forse un incoraggiamento per quanto riguarda questa è la prima cosa che mi ha fatto tanto piacere vedere questa gente riunita sotto la bandiera della acculturiamoci di più approfondiamo le nostre conoscenze anche in queste poche ore come diceva la Paola prima di sacrificio per venire lì ma non è un sacrificio è una richiesta personale quindi quando si fa compassione il sacrificio scompare lo so ci sarà il nipotino perché c'erano tanti nonni e specie nei corsi di psicologia tante nonni si sono ritrovate a quello che non hanno fatto quando erano mamme loro queste sono le cose interessanti dei corsi questo mi salta all'occhio piacevolmente è di vedere le persone che o si ricordano di loro passato o che vogliono sapere di più forse per dirlo un domani all'anora e al genere o guarda mi hanno detto che un si fa così quindi questo mi è rimasto molto favorevole basta io prego no no tu hai la domanda io però volevo aggiungere appunto una cosa a questo quello che si sta ribadendo è l'importanza della cultura quindi il il fatto che la persona abbia il tempo di poter dedicare a questo approfondimento perché forse qualche volta dice io non so che cosa fare e quindi è meglio che tenga come si dice le cellule grigie in funzione che non 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 stare a far niente da fare c'è sempre da parte delle persone perché le famiglie richiedono sempre tanti sacrifici tanti no sacrifici tanto tanto lavoro tanta presenza quindi però quello che è fondamentale anche ricordarsi questo quando si deve lasciare qualcosa invece di pensare al bene materiale ai beni materiali da lasciare credo che sia importantissimo lasciare una testimonianza di cultura ai propri figli ai propri nipoti quindi quello che noi stiamo accumulando non solo nella socialità del confronto che può venire dall'accademia dell'annunciata o da qualunque altra istituzione che potrebbe essere creata con un altro nome ma credo che sia fondamentale veramente quello che noi si può lasciare in termini culturali ai nostri nipoti e quindi quando si parla di cultura che qualche volta si dice la cultura non rende è l'errore più grande che noi possiamo fare perché il vero patrimonio è questo creare la persona e un cittadino è quello che si può dare come esempio quando si parla di quello che può essere diciamo significativo per il territorio una comunità che cresce cresce in cultura cresce in capacità civica di cittadinanza cresce in un sapere che sicuramente ha tutti i risvolti che ci possono essere per un miglioramento della società a cui apparteniamo quindi io credo che sia la più grande eredità che le persone che capiscono e che vogliono veramente apprendere non soltanto ripeto soltanto con i talk show televisivi o altre cose perché leggere si legge poco si presentano molti libri ma si legge poco e credo che quindi se ci sono delle occasioni dove possiamo fare dei confronti culturali credo che questo sia veramente qualcosa di prezioso volendo Paola ci ha dato anche qualche linea guida per una sorta di esame di coscienza ecco chiederei a Franco a Paolo Meucci un brevissimo bilancio di questo primo anno di vita dell'Accademia Paolo io uso un bilancio nulla ma no forse forse avrebbe avrebbe più da dire Paola che ha seguito direttamente ma insomma mi pare che sia abbastanza soddisfacente per essere il primo anno volevo solo io aggiungere un'altra cosa se posso cioè siamo stati sollecitati anche noi che abbiamo insomma fatto un corso docenti sollecitati dal comitato di gestione a fare delle presentare delle proposte per l'anno prossimo io semplicemente ho detto di allargare sul piano della cultura scientifica cioè trovare qualche buon divulgatore che per la medicina o per la geografia bene o male in qualche modo ma un divulgatore diciamo nell'ambito della scienza proprio pura o della scienza sperimentale tipo un fisico o un matematico che riesca a trasmettere qualcosa di significativo e comprensibile e questo sarebbe importante secondo me e quindi non tenersi sempre nell'area cosiddetta umanistica o letteraria o filosofica o storica perché forse è più semplice comunicarla anche a livello meno specialistico ma anche invadere un altro campo che normalmente si tiene da una parte invece non è bene perché la cultura è una e non è divisa fra le scienze umane e le scienze che sono scientifiche o disumane insomma perché non ho capito perché un complesso di scienze si chiamano umane e quell'altro non si chiamano disumane va bene insomma era una battuta bene e quindi veniamo appunto idee e suggerimenti per i prossimi per il futuro sì dunque in generale secondo me potrebbero essere affrontate ancora e proseguendo e approfondite alcune delle tematiche già svolte in quest'anno oltre chiaramente presentare nuovi argomenti che è già stato detto emergeranno anche dalle proposte degli iscritti e proposte dal comitato di gestione perché è stato appunto approntato e presentato a tutti inviato a tutti un questionario per cui da cui emergeranno appunto dovrebbero emergere proposte in ambito in ambiti culturali diversi quindi non solo in ambito letterario umanistico eccetera anche di altro genere naturalmente secondo me ecco io quello che posso potrei suggerire per esempio secondo me per conoscere meglio la nostra città si dovrebbe si potrebbe appunto affrontare l'area storico-artistica ora Franco l'ha appena detto che è abbastanza più più comune diciamo ecco come argomento come tematica da affrontare però considerando magari un periodo a noi più vicini e quindi mediante incontri con esperti queste visite guidate questo va bene anche perché quest'anno appena che sta per concludersi in quest'anno che sta per concludersi non è stata affrontata se non sbaglio i vari argomenti degli otto corsi non prevedono non hanno previsto questo un altro aspetto potrebbe essere quello linguistico con particolare riguardo ai dialetti al dialetto che nella nostra zona cioè dialetto perché ancora esiste nella nostra zona c'è e quindi vedere anche che soluzioni attuali possono che cosa è cambiato essendo la lingua da sempre in grandissima evoluzione quindi però il dialetto rimane comunque ecco questo potrebbe essere un altro argomento volevi qualcosa aggiungere ecco no cioè sì sì avrei bisogna guardi perché ne ho qualcosa ecco per esempio anche per quello che riguarda la storia locale ci potrebbero essere diversi spunti ora quello che mi è avvenuto proprio in questo periodo dell'anno in mente è quello per esempio riferito alle celebrazioni degli uffizi e del carne durante appunto il carnevale perché è una rievocazione che viene ancora mantenuta è antichissima dal periodo medievale fino ad oggi quindi viene a più riprese con più o meno successo per esempio però effettivamente alla sua importanza ed ha anche una valenza storica non è soltanto valenza scusate religiosa non è soltanto il carnevale come visto come momento di aggregazione andando ai saloni della basilica ma anche appunto questa accezione questa valenza religiosa quando appunto questi uffizi avvenivano soltanto nel periodo di carnevale e non come avviene ora in vari momenti dell'anno andando a mangiare va bene a mangiare lo stufato alla San Giovannese perché una volta esisteva usavano nel periodo di carnevale per l'uvi in occasione degli uffizi di carnevale venire i pellegrini venire anche le persone povere a mangiare a gustare questo stufato fatto di poche di povere cose non certo quello che viene oggi cucinato e mangiato e quindi e perché perché venivano a onorare i defunti questa è l'origine quando venivano nell'oratorio prima che diventasse anche santuario della Maria delle Grazie quindi è una cosa una tradizione veramente antica e credo che anche Paola per finire diciamo finello va bene poi sì 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 no no va bene io volevo accettare questa prego sì allora al di là di prendere con molto piacere lo spunto e la proposta che ha fatto Maria sulla storia di San Giovanni sugli uffizi c'è già una storia che viene diciamo diffusa abbastanza frequentemente diciamo a livello anche giornalistico comunque è sempre bene perché le giovani generazioni possano sempre ritrovarsi nelle tradizioni e riconoscere anche meglio la loro identità quello che mi sembra bello come proposta da vorrei più che bello utile vorrei ecco che ci fosse anche l'opportunità di mettere insieme la teoria con la pratica ci possono essere dei corsi che possano coinvolgere ancora di più perché la cultura è sempre teoria e pratica dall'esperienza si fa la parte sperimentale eccetera quindi non c'è mai tutto in termini univoci e quindi se ci saranno dei corsi come accadrà dall'esito dei questionari che noi abbiamo oltre che dalle idee del comitato di gestione saremo ben lieti di poter valutare bene e interpretare bene i bisogni della della popolazione quindi e di coloro che sono venuti ai corsi in modo particolare quindi cercare di catturare di più l'attenzione ma soprattutto interpretando i bisogni non materiali di coloro che vengono all'Accademia dell'Annunziata ce ne sono diversi faccio un'ipotesi ecco per il discorso laboratoriale quello quello di perché chiedevano l'utilizzo dei tablet e degli smartphone per poter capirne anche le conseguenze questo può essere una cosa molto pratica ma che oggi può avere la sua importanza in termini scientifici e tecnologici anche sul piano pratico per poter fare qualcosa che possa essere utile a tutti quindi ringrazio io sono felice di poter avere questa opportunità anche di discussione grazie purtroppo ci sarebbero tante altre cose che vorremmo che gli ospiti vorrebbero dire ma siamo al termine della puntata io ringrazio li ringrazio della loro presenza e lo facciamo con un volumetto che ci è stato offerto dal servizio editoriale Fesolano ricordo a voi telespettatori le repliche di questa puntata sabato alle 9.10 domenica a mezzogiorno e 10 inoltre potrete rivedere questa e le passate puntate sul nostro sito web che è www.segnosette.it la nuova puntata che andrà in onda mercoledì prossimo 13 marzo avrà come ospiti due artisti che vivono all'oppiano Ung e Ciro con i quali parleremo appunto delle esperienze artistiche nella Mariapoli arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti